Allora, qui abbiamo due bellissimi esemplari di barche tradizionali in Atasimeno recuperati dall'Associazione Arabica. Questo normalmente si chiama un barchino, o era una barca per la pesca molto costiera, che di solito andava senza motore quando è stata costruita, poi è stato fatto il taglio per metterci un piccolo motore. Quindi questo andava o a Puntone, con la remata a Puntone, o a Scanella, con un remo solo, oppure se c'erano due rematori con un altro remetto, la paetella, la chiamavano. E serviva esclusivamente per la pesca, diciamo, al volante, nei ganneti, se si poteva allontanare 300-400 metri dalla riva, ma anche meno, 100 metri dalla riva, 200, perché in caso di eventi, per esempio, come oggi, non erano zone per navigazione, chiamiamola fra virgolette, d'altura. Quindi queste erano le barche tipiche che usavano, per esempio, nell'area della valle, quindi per i valli agli ordini chiamavano, oppure per questa pesca costiera. Questa barca qui era rivestita in plastica quando l'ho recuperata, era di un castiglionese, lo sono riuscito ad acquistarla, l'ho spolerata da questa vetroresina, questo film di vetroresina che c'era, e è venuto fuori un bel esemplare. Il legno era molto ossidato, molto polverizzato, quindi abbiamo fatto un trattamento un po' di consolidamento temporaneo, infatti sotto c'è una vasca di stampata di plastica, che si vede poco il bollo, perché sennò si distruggeva. Ora forse dopo il consolidamento si può anche provatogli. Poi, diciamo che è stata un po' trattata per riconsolidarla, e l'ultima tecnica che usiamo, come abbiamo usato per quello, si era consigliata al nostro maestro Lascia effettivo, un certificato di riferimento, che è un ragazzo che è nato a San Feliciano, ma al cantiere a Murano, è diventato maestro Lascia nel Veneto, perché per diventare maestro Lascia certificato ci vogliono tre anni di attività esperienziale in un cantiere oppure in una scuola, e poi fare un esame alla capitana delle reporte. In quel caso sei un maestro Lascia certificato che puoi costruire parche e certificarli, fino a una certa stazza. Queste qui, diciamo, sono costruite da persone che erano falegnani al tempo. Comunque, questo è molto importante, dal tipo di costruzione noi possiamo dire che è stata costruita a San Feliciano, da questa azienda Scalchini. E' molto bella, qui anche il Manu ce l'aveva vista, perché c'ha queste grappe in ferro che erano usate anche due o trecento anni, per tenere le tavole, queste grappette di ferro che ci sono, perché questa è scomposta, quindi la tavola non è tutta intera, è fatta con un paio di tavole, la storia. Allora, qui già potete vedere la classica costruzione. Questo è l'uscio, questa parte centrale con le tavole orizzontali, che prima di tutto si costruisce questo. Questa è la misura dell'uscio del barchino, quello è l'uscio, dopo andiamo a vedere, della barca che grande. Si costruisce questo uscio con tre ordinate, che sono in stile dragoni, che di solito sono le querce. Poi le ordinate verticali invece sono fatte le olive tutte in un pezzo, perché l'olivo consente di avere queste piegature, quindi se prende il pezzo l'olivo, la prende uno grezzo, così. Si fa l'uscio, si attaccano alle sponde, poi si piegano e si chiudono con queste tavole, e questo era il barchino per piccola pesca costiera, o per la valle. Poi dopo c'era la barca più grande, intorno a 6 metri, c'è una di una di 6 metri, che è quella, che quella si può fare la pesca anche un po' più, si può attraversare l'ago, affronta i venti del lago senza problemi. E queste sono le barche che dall'inizio del Novecento sono rimaste. Prima c'erano le barche, i barchetti, le barche del gorro, fa conto un metro e mezzo più lungo come questa, che sarebbe quella del Museo della Pesca, che poi è stata ricostruita. Cioè io ho fatto parte del gruppo di lavoro per la ricostruzione quando è preso fuoco che si è accenduto. Anche perché appunto uno dei lavori che fa l'ARBIT è quello di scienziare barche, quindi noi come ARBIT, e l'avevamo fatto ufficialmente con la richiesta al Comune del Magione, avevamo il censimento, quindi tutte le misure, perché se no sia il Museo della Pesca, il Comune del Magione non c'era nessuna traccia, una storia documentata di quella barche, quindi ci hanno chiesto le misure, gli abbiamo fatto il disegno, addirittura io gli ho fatto un monellino, dopo si è andava proprio per farlo vedere che la ricostrui in scala e è stato possibile ricostruirla. Questa invece è stata costruita a Borghetto, ricordo, a Borghetto di Castiglione e Lago e anche. Queste barche qui che facevano o per i cacciatori un po' più facoltosi, o come questa che l'hanno fatta per l'università, era costruita con delle rifiniture un pochino più importanti. Mentre questa è fatta con i chiodi, è tutta chiodata, eccetera, vedete quei chiodi, quindi ribattuti. Questa è fatta tutta con le misure. Anche questa l'università l'aveva poi, aveva seguito le molie, l'aveva rivestita completamente le vetrolessime e quindi è stato fatto anche sto lavoro di sfoderamento, ma qui praticamente il fondo era tutto andato ammalorato, non esisteva più. Qui praticamente gli è stato rifatto, prima di tutto gli è stato rifatto la parte finale della sfonda perché anche quella si era ammalorata, vedi sto pezzettino che si vede nuovo qui. E poi è stato rifatto tutto il fondo. È stata una bella esperienza, però vedi, le rifiniture sono sto bottino sopra, a parte le vini, quelle panchettine lì, sono previste altre due panche, quindi le abbiamo ricostruite l'asso reale con quel legno antico. Praticamente questa ora è pronta per rimetterla in acqua, poi se mi progettiva mettiamo l'acqua per la stannatura, se deve stare una settimana o dieci giorni immersa un po' nell'acqua se arriva qui, il legno si gonfia e chiude i commenti tra le tavole che si sono ritirati perché non è tirata fuori autosomia, mi fa sti lavorando di manutenzione per corregge degli attori.